OMD, un posizionamento intanto di centro media solido, consistente, però che nel tempo ha saputo anche dotarsi di quel senso di innovatività, quindi l'innovazione è entrata proprio potente nelle vostre strategie. Come ci siete riusciti? Perché a volte sembra che chi ha una certa fama sia difficile poi accreditarsi al mercato per anche spirito di capacità di guardare al nuovo. Beh, diciamo che non è stato lasciato nulla al caso, è ovvio che per stare in questo mercato non ci si può fermare, bisogna sempre essere avanti, andare avanti e guardare avanti, a guardare quello che succede anche negli altri paesi, per cui sicuramente OMD è un centro media solido, storico, importante, centro media con delle radici comunque negli Stati Uniti, in UK e quello che hanno fatto gli altri ovviamente ci ha aiutato nel nostro sviluppo. Poi ovviamente il management locale è un management che ha creduto tantissimo per esempio in tutto ciò che è digitale. Noi oggi abbiamo un reparto digital che poi è il resolution importantissimo, importantissimo in termini numerici e che comunque segue tutte le logiche del digital. Abbiamo comunque investito in ricerche, abbiamo fatto tutto ciò che serviva per poter essere, come hai detto tu, all'avanguardia ed essere al passo coi tempi. Per calarlo tutto nella pratica, insomma, magari anche nell'ambito di una progettualità fatta per un cliente, cosa citeresti e perché? Allora, sicuramente citerei la nostra piattaforma strategica, che è una piattaforma comunque internazionale, che si chiama Vision. È molto bella perché è interattiva, permette di comunicare tra di noi, ma non solo tra di noi all'interno italiano, ma tra di noi a livello di logica di network. Questo ci permette di costruire delle strategie e di fare appunto per dare un servizio ai nostri clienti che non è solo limitato a quello che vediamo, quello che sentiamo in Italia. Per cui siamo un centro internazionale e questo vogliamo che si respiri, che i nostri clienti lo capiscano. È un modo comunque di condividere le informazioni sicuramente innovativo e che ci aiuta a preparare per i nostri clienti delle strategie diverse, che poi vengono supportate anche da questa scelta che è stata fatta da noi, di avere un panel proprietario che intervistiamo ogni qualvolta le ricerche, sia le ricerche sui mezzi, quelle classiche, sia magari le ricerche tipo risco, sinottiche, eccetera, non sono sufficienti per rispondere a tutte le domande che ci pone il cliente. Per cui intervistiamo il panel, abbiamo degli insight a questo punto diversi, nuovi, con cui alimentiamo vision e che ci permettono di dare ai nostri clienti magari quello sguardo un po' diverso rispetto al loro business. Ecco, si dice infatti che è l'era delle ricerche, perché l'obiettivo anche e l'esigenza dettata proprio anche dal digital è capire come è cambiato il movimento, il viaggio che il consumatore fa nelle sue decisioni d'acquisto. Quanto questo poi a cascata ricade sui progetti che presentate il cliente? Tra l'altro, pensavo ad esempio a quanto avete fatto nei punti vendita Barilla, prima volta poi della marca che dà a un centro media un lavoro di questo tipo. Ma allora, sicuramente è l'era dei dati, l'hai detto partendo dal digital, dove ovviamente stiamo parlando sempre di più di comunicazione quasi one to one, è molto mirata. E' ovvio che però avere i dati e non sapere cosa farsene è il vero problema. Per cui noi abbiamo comunque al nostro interno, per quel che riguarda la parte digitale, un reparto specializzato all'interno di Resolution, che si occupa veramente di tutta la parte di analytics, per cui di lettura di dati e di suggerimenti da dare ai clienti in fase strategica ricavati dalla lettura dei dati. E questa è una cosa. L'altra cosa però è non lasciare i dati che arrivano dal digital lì da soli. Noi dobbiamo fondere tutti i dati che abbiamo, che arrivino dal sito, per cui dal digital o che arrivino, come nel caso di Barilla, da attività che vengono fatte più, magari in maniera più normale all'interno di un punto vendita, ovviamente è fondamentale. Barilla hai citato una case story molto interessante. Sicuramente siamo andati, abbiamo fatto tutto uno studio per loro, per poter fare una comunicazione sul punto vendita mirata, ma che prevede anche proprio tutto ciò che di supporto di comunicazione si può avere nell'ultimo miglio. Cioè dal momento in cui il cliente è molto vicino al punto vendita fino al momento in cui si trova all'interno del punto vendita e magari c'è la hostess che gli propone un determinato prodotto. È un lavoro fatto ovviamente a quattro mani con il cliente, ma del quale siamo molto orgogliosi, anche perché ha dato veramente grandi soddisfazioni rispetto appunto alle vendite dei prodotti che abbiamo comunicato. E questo insomma che risponde, che si deve intendere per consulenza, ed è insomma l'elemento, l'insieme di elementi, la strategia che trasforma un'agenzia da agenzia media a agenzia di comunicazione. Sì, sì, assolutamente. Il termine agenzia media ormai è veramente un po' decisamente superato. Sicuramente noi ci occupiamo di media, ma il media visto come una parte importante della comunicazione e non solo il media tradizionale, il media classico. Anche, per esempio, noi abbiamo una divisione che è specializzata negli eventi. Lo scorso anno abbiamo fatto una serie di eventi davvero importanti, che hanno avuto anche tantissimo successo. Nel caso di Pepsi siamo riusciti addirittura ad incidere una canzone che ha avuto oltre un milione di visualizzazioni su YouTube. Per cui, e questo è partito da noi, siamo stati noi che abbiamo contattato, cioè è stata la divisione di OMD che ha contattato i vari artisti per far in modo che questi accettassero di incidere questa canzone. Per cui non possiamo parlare più solo di media. Siamo noi ormai che siamo al centro del processo di comunicazione del cliente. 700 milioni di billing, 2013, 180 persone d'organico, una crescita dell'1% rispetto a quanto realizzato nel 2012, nonostante il mercato invece è fletta del 2015. Soddisfatti? Sì, beh, decisamente. Questo risultato è stato possibile grazie a alcuni clienti che hanno investito di più rispetto all'anno precedente. Abbiamo due casi importanti di clienti che hanno incrementato il budget, qualche cliente che sicuramente ha decrementato, ma poi abbiamo fatto una serie di operazioni new business a fine 2012 che ci hanno permesso... Chi incrementa in questo periodo? E perché? Cioè, il momento suo particolare? Perché esporta? Cioè, quali sono i casi in cui gli investimenti, nonostante abbiamo visto la stessa grande distribuzione, oggi lamenta che le marche, insomma, anche le prime marche non investono più e quindi, insomma, si chiedono che ruolo devono avere. Chi sono quelli che invece spendono? Faccio un esempio su tutti perché viene facile e sì, sì, è autoesplicativo. Apple, nel corso del 2013, ha incrementato decisamente il budget. Vuol dire, sicuramente la tipologia di prodotti, la tipologia di comunicazione che sta facendo, ha fatto sì che appunto questo cliente ci desse grandi soddisfazioni con forti incrementi di budget. E quindi l'internazionale, cioè il fatto di essere ovviamente parte di un network internazionale è tutto? Certo, anche se comunque diciamo che OMD ha una percentuale di clienti locali importanti e per noi… Quanto pesa il nostro mercato sul nostro fatturato, cioè il mercato italiano locale? E qui dipende da… Barilla, per esempio, per noi è un cliente locale, perché comunque è una gara fatta in Italia, ma noi per Barilla gestiamo 24-25 paesi nel mondo, per cui dipende da quale lato guardi il numero. Però certamente ha un peso molto importante i clienti locali, sia in termini percentuali, ma anche e soprattutto in termini numerici. Abbiamo molti clienti italiani, molti clienti locali, di questi andiamo veramente fieri. Parlando di clienti, insomma diamo anche uno sguardo al new business che vi ha dato più soddisfazioni nel corso del 2013 e anche quelli magari aperti nel corso del 2014, c'è la gara Vodafone. Vabbè, si mormora di quella Lidl, ma so che nulla da voi trapela. No, no, allora, per quel che riguarda il 2013, a fine 2013, per noi le due più grandi acquisizioni che abbiamo fatto sono due clienti che noi gestivamo da tanti anni, che ci tenevamo a gestire anche per il 2014 e per gli anni futuri, per cui c'è stata una gara a Asbro, Asbro è cliente di OMD da sempre, una gara a Carlsberg, a Carlsberg è cliente di OMD da più di sette anni, abbiamo comunque vinto le gare, per cui mantenuto i clienti e questa è una grande soddisfazione. Per quel che riguarda poi il 2014, è vero, c'è ufficiale, c'è la gara Vodafone, mentre invece per Lidl diciamo che abbiamo avuto qualche contatto. Che obiettivi avete per quest'anno? Dobbiamo crescere, per forza, come tutti, per cui coltello tra i denti e cercheremo di portare a casa l'obiettivo anche quest'anno, come siamo riusciti a fare negli ultimi anni, nonostante il mercato non sia andato particolarmente bene.